Innanzitutto c'è un grandissimo orgoglio nel farlo, non solo perché aspettiamo un altro grandissimo evento sportivo, ma perché aspettiamo un evento organizzato insieme al Ministero e alla Provincia e soprattutto un evento della scuola. Quindi un intreccio tra scuola, formazione e sport che è praticamente l'intreccio più importante nella crescita dei ragazzi.